Sabato 10 agosto, San Lorenzo Martire. È il 223esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 143 al termine. Il sole solge alle 6.06 e tramonta alle 20.25. La luna si leva alle 12.03 e tramonta alle 22.38. Nasce a Vicenza Luigi da Porto, scrittore scorrevole ed elegante, redige sotto forma di epistolario la storia della guerra promossa dalla Lega di Cambrai, a cui aveva preso parte come capitano dei cavalleggeri, battendosi valorosamente all'onigo e nel Friuli. Abbandonato l'esercito a causa delle ferite riportate in guerra, si dedica agli studi prediletti. Scrive varie opere in lingua volgare e in latino, poesie di intonazione petrarchesca e la novella Giulietta e Romeo, che Shakespeare, più tardi, renderà immortale. Le previsioni per domani. Cielo in pianura generalmente sereno, in montagna da sereno a poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulle Dolomiti, ov'è più probabile, dalle ore centrali qualche locale pioggia anche a carattere di rovescio temporale. Temperature minime un po' in aumento sulle zone montane e pedemontane, senza notevoli variazioni altrove. Temperature massime in leggero aumento.